musica 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 amish una nuova missione un nuovo giorno nuove bestemmie nooo ok controllo qua qua ci sta pieno di enemies iiiiss nemico a destra con un fucine prendi la flash no ma proprio appena aprivo lo trovi davanti morto oh uh 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 lsbd lsbd polis lsbd don't move ho una porta qua allora questa è la porta peggiore cioè dove è pieno di gente questa qua ti vorrei perchè è veramente piena quindi aspetta ciò prima ho tutto in alto arriviamo io da dietro così ok ok continuo questa porta non è possibile cioè non m'aveva visto no tranquillo dovrei passare GANATA france mi congiungi di un attimo appena hai fatto eh non vedo nessuno apriamo vai con calma a terra occhio a destra mi ha ferito ricarico occhio che qua stanno le trappole a tutte le porte o almeno la maggior parola o almeno la maggior parola e gira di e gira di io comunque sei sasso anche me oh no 12.02 12.02 oh oh no la macchina no ho detto che oh 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 questa come? qui non lo vedo adesso lo vedo occhio qua perchè con i vetri ci possono sparare da dentro e noi non li vediamo non mi sento molto oh ma che è? non ce ne so che cazzo allora dovremmo restare del sospettato quindi quando arriviamo alla stanza quella più grande tiriamo una esatto e cerchiamo di non ammazzare nessuno oh oh questa è la stanza grande sta di fronte a me questa? ok aspetta tiro la flash lo so lo so lsbd i want you to get down slowly roger house lsbd è bene? ho solo flashato oh cazzo aspetta 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 dove sta? non lo so eh perdonami vabbè mi ha lasciato mi ha fatto mi ha fatto un l'ho fatto in headshot fra te mamma mi mangia cheese vabbè restiamo tutti vabbè due ne abbiamo arrestati abbiamo visto che ii scuttledati di inimi uno dei tecnici con uno di tecnici di percetano però cazzo chiamati ii vabbè vabbè veni vabbè 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 vabbè